Stamattina è stato presentato il logo del marchio DECO. Il marchio DECO si basa su tre principi fondamentali, l'identità territoriale che è rappresentata dall'effigia di Aretusa, il valore del prodotto che verrà certificato DECO e quindi la moneta e quindi il valore di carattere economico e la forma che richiama i marchi di qualità dei certificati europei. E quindi questi sono i tre principi fondamentali. Superata la presentazione del marchio, adesso spetta ai produttori farsi avanti e associarsi al circuito DECO per mettere in condizioni tali dell'amministrazione di essere quanto più forte possibile nella promozione del marchio e quindi avere poi effetti a ricaduta e a beneficio delle attività associate. Assessore, cosa vuol dire per un prodotto locale avere il marchio DECO? Il marchio DECO è un marchio di identità territoriale, un marchio che già insomma utilizza il nome il brand Siracusa che è un brand forte e quindi diciamo vuole collegare una produzione enogastronomica ma anche artigianale a un prodotto di qualità, un prodotto di eccellenza così come è stato voluto dall'ideatore del marchio DECO che è il grande Veronelli. E cosa bisogna fare quindi per avere il marchio DECO? Qual è la procedura? Allora sul sito del Comune abbiamo pubblicato il regolamento con gli allegati, il modulo che il produttore dovrà compilare e inviare all'ufficio attività produttive per essere inserito nella procedura di riconoscimento della DECO. Poi c'è un'apposita commissione di esperti che valuterà se questo prodotto ha le caratteristiche per essere contraddistinto dal marchio DECO e quindi poi diciamo entrerà nel paniere dei prodotti DECO che avranno una promozione particolare da parte del Comune che è voluta fortemente anche dal lanci nazionale. Quali sono le caratteristiche per poter avere il marchio DECO? Sicuramente una forte identità territoriale, una produzione che è legata strettamente al territorio del Comune di Siracusa come potrebbe essere per esempio il limone GP o anche il Moscato di Siracusa o anche dei piatti della tradizione siracusana che appunto hanno questo forte legame tra il prodotto e il territorio.